Il messaggio di Aldo, il mimo parigino ucciso a Palermo a Piazzaro Ungheria la notte del 17 dicembre non fosse perso. Volevo che il messaggio di libertà che lui aveva lanciato ed era riuscito a trasmettere a tanti palermitani, ma non soltanto di libertà, anche di giustizia sociale, di cultura venisse tracciato attraverso le pagine del libro. A proposito di questo ho raccolto anche le testimonianze di tante persone che sono venute in contatto con il francese Giramondo durante la sua permanenza in città. Aldo veniva qua a Palermo per svernare. Dal 2016 ha incontrato la nostra città e poi è tornato sempre perché era rimasto molto attaccato soprattutto per le persone che aveva incontrato e per il clima di accoglienza e di grande apertura che c'è a Palermo. All'interno delle pagine del libro ci sono tanti racconti, anche aneddoti, che hanno voluto raccontare, che hanno voluto appunto testimoniare gli amici di Aldo che ha incontrato a Palermo. E' importante anche dire che il ricavato del libro destinato all'autore verrà interamente devoluto, destinato all'autore, ripeto, verrà interamente devoluto agli angeli della notte Ollus, che è un'associazione di volontariato dove ho fatto anch'io il volontario qualche anno fa, al gattile di Palermo, Ediga. Grazie a tutti.